Siete su M2O, state ascoltando Prezioso in Action Chi c'è? Siamo qui, io Jack La sua tartaruga bolla E la nostra valletta Bombesia Parla dai M2O è stata molto generosa e ci ha permesso di avere Antonacci Ci sembra giusto dare la possibilità a un collega di fargli una domanda Chiamate Dai Ma che è? Sì, pronto? Ciao, sono Abdul da Dubai Ciao Volevi chiedere, Biagio Antonacci, cosa ti pensa della donna di una certa età? C'è quella che si fa, Jack Sì, certo Ci sono delle donne, una bellezza, belle, toste, con esperienza Prive di... Di? Cazzi E noi che cerchiamo l'esperienza, ci buttiamo Su M2O, Prezioso in Action Bentornati in diretta State ascoltando Prezioso in Action su M2O E quindi? Grazie ancora al direttore, oggi abbiamo un ospite Cantautore Bella questa, l'abbiamo scritta insieme Chi abbiamo con noi? Biagio Antonacci Ah, è vero, ma l'ero dimenticato Bombesia, come va la pagina Facebook? Leggiamo qualche commento Vai Selene da Latina scrive Biagio, io non vivo più senza te Scappa da quei barboni e vieni a prendermi Barboni! Iris da Milano scrive Volevo dire a Biagio Antonacci che con la sua canzone mi ha rovinato la vita Ma non potevo usare un altro nome? Ma infatti, potevi usare un altro nome Cazzo fai? Questi gesti, eh? Taburino Andiamo avanti Biagio, mi dicevi che hai viaggiato con la Pausini Dov'è che sei andato? Miami, New York, in aereo, insieme Sì Con la stessa cuffietta Una io, una lei Ascoltavo i pezzi dell'Abu Nuovo poco tempo fa Ed era un'immagine bellissima Sì Lei, appoggiata sulla mia palla appena appena Mi ero citato Amore e sale C'è M2O Preziosi in action Bentornati in diretta su M2O Oì, come va? Oggi siamo molto pop Grazie a Giorgia che porta un po' di dolcezza in Preziosi in action Passiamo alla prossima domanda Vai! Giorgia, ti ricordi la prima volta sul palco? Eh? Dai, pirla La prima volta fu Fu Traumatica ai massimi livelli Cantai un pezzo americano Proprio che conoscevo io altri tre E qualcuno dal pubblico mi gridò Basta! Cazzo! Bentornati in diretta su M2O State ascoltando Preziosi in action Siamo qui Io Jack La sua tartaruga bolla Bombesia E Giorgia Jack, fermo al piore con Giorgia Se no a Natale niente regali, eh Sì, va bene, dai Giorgia, che musica ascoltavi da piccolo? Io ascoltavo i Durandurandi nascosto Potevo ascoltare Recharts, Stevie Wonder La parte del jazz, il soul, l'R&B Poi a 29 anni, perché io quando ero giovane andavo nei club E quindi lì mi sono fatto, è prezioso Ah! Ma veramente non mi ricordo io Comunque tu sei un puzzone Su M2O Preziosi in action Eccoci novamente su M2O Preziosi in action Siamo qui Io Jack La sua tartaruga bolla E La nostra valletta Bombesia Prego! M2O è tutta infiborillazione Per la nostra ospite Un'attrice d'eccezione Chi vuole fare una domanda a Margherita? Margherita! Eh, pirla Chiedo al centralino Di non passarci sempre i soliti Non se ne può più Magher! Sì, pronto? Ciao, sono Abdul da Dubai Ancora? Minchia, che coglione ho Ma parli bene! Cos'è che io volevi chiedere? Vorrei chiedere a Margherita Pui Ma tu vai spesso al cinema? Sono andata a vedere un po' di film Non tutti Insomma, nel senso che sono un po' in ritardo Come il mio solito Perché c'ho troppi cazzi Insomma, intanto vado Adesso sono andata a vedere Questo The Butler E Com'è? Lo consiglio Soprattutto, secondo me Ecco, un pochino per capire Anche la storia della figa Pelata Insomma, è un film molto semplice Su M2O C'è Preziosi in action State ascoltando? Prezioso in action Su M2O E dillo no! Con noi oggi la grandissima Margherita Pui A proposito Ma tu verrai a M2O Experience Il party ufficiale di M2O Sabato 20 dicembre Al Fabricchi di Milano Con tutti gli artisti della radio Insieme per un'esperienza unica Verrai? Sì, sì, sì Certo, certo Bene, bene, bene Allora, i biglietti li trovi Su mailticket.it Andiamo avanti Margherita Ci fai uno dei tuoi monologhi Di maggior successo? Sì Vai! Sangue Sulle lenzuola Sul cuscino Dappertutto Mi hanno ammazzata Sono entrati Mentre dormivo E mi hanno tagliato la gola Il cuore batte l'impazzata Ho paura Ho paura di scoprire Che mi hanno ammazzata Eppure devo guardare Devo controllare Sto bene però Mi sento bene Potrebbe non essere mio il sangue E di chi è? Di sto cazzo Sì, sì Su M2O Prezioso in action E dai Bentornati in diretta Ma dove siamo? Siete su M2O State ascoltando Poeziosi in action L'ospite di oggi È una cantante di gran classe Come l'avranno convinta A venire da noi? Ha pagato il nostro direttore Fabrizio Tamburini Sì, infatti Come no? Comunque se avete accesso La radio adesso C'è la banoni In onda Ma fatta Ma tu c'è qualche problema Porco Ornella Ma è vero che te Jack Siete amici? Cos'è successo una volta? Una volta Mi ha portato una canzone Veramente? C'è? Eh sì Ma questa qui Proprio per me Non mi c'è a secca Dice Mi fa La devi cantare un successo sicuro Fagiano vagabondo Com'è bello stare al mondo Beh è bello il testo L'abbiamo litigato Urla Su M2O Preziosi in action Siete su M2O Questa è preziosi in action Ricordiamolo Abbiamo con noi Ornella Manoni Mi stai insegnando a cantare? Sì sì Così almeno i prossimi dischi Li canto io 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 Eh dai Il testo di capo Ornella Dov'è che sei andato ultimamente? Cogli collaboratori? Eh siamo andati a San Paolo Abbiamo parlato con 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 Tuchinho È venuto a tre È venuto da Bahia anche Minisius Sì Sono arrivati a Roma Si mangiava insieme Non ci si lasciava mai E chi piangeva E chi rideva E chi scompava Su M2O Attrezioso in action